italiano on air il podcast sulla lingua italiana della scuola leonardo da vinci buongiorno a tutti da italiano on air il podcast sulla lingua italiana della scuola leonardo da vinci io sono alessio e io sono katia buongiorno a tutti che dice vogliamo informare i nostri ascoltatori che abbiamo un indirizzo email a cui possono scrivere certo allora l'indirizzo è podcast piocciola scuola leonardo.com scriveteci per suggerimenti curiosità e domande la scorsa settimana abbiamo parlato di libri e di lewis carroll sì e questo tema ricorre anche nella puntata di oggi perché vorrei parlare di come le favole influenzano la lingua ci sono molti modi di dire legati alle favole pensiamo al famoso in bocca al lupo dove il lupo è uno dei protagonisti più presenti esatto abbiamo anche altri esempi per citare di nuovo alice nel paese delle meraviglie si usa l'espressione seguire il bianconiglio per indicare quando si segue coraggiosamente la nostra curiosità abbiamo delle favole prettamente italiane da citare credo che la favola italiana più famosa al mondo sia pinocchio e sì è vero sono molti modi di dire collegati alla storia del burattino di legno sicuramente quando diciamo ai bambini che se dicono le bugie gli si allunga il naso ci riferiamo al protagonista birichino della favola di collodi ma anche il gatto e la volpe sono personaggi di pinocchio che sono entrati nei modi di dire quando vediamo due persone furbastre un po approfittatrici due persone da cui stare alla larga insomma spesso li definiamo il gatto e la volpe quando invece abbiamo intorno una persona saggia ma un po saccente che tende a sottolineare tutto quello che può andare male che è sì coscienzioso ma anche un po pedante gli diamo del grillo parlante ma sai che il vero nome di collodi è in realtà carlo lorenzini sì il nome collodi viene dal piccolo paese in provincia di pistoia dove era nato carlo lorenzini tra l'altro è un paesino bellissimo molto arroccato ai piedi del quale c'è il parco dedicato a pinocchio senti visto che siamo in tema di favole recitare uno scrittore per bambini qui magari dedichiamo anche una puntata speciale chi gianni rodari ah certo assolutamente mi piacerebbe leggere una delle sue poesie quella che preferisco mi sa che immagino qual è promemoria esatto allora inizio promemoria ci sono cose da fare ogni giorno lavarsi studiare giocare preparare la tavola a mezzogiorno ci sono cose da fare di notte chiudere gli occhi dormire avere sogni da sognare e orecchie per sentire ci sono cose da non fare mai né di giorno né di notte per mare né per terra per esempio la guerra che bella allora quali parole abbiamo usato oggi io ho parlato del gatto e la volpe definendoli dei furbastri un termine che indica una persona tendenzialmente furba quindi dotata di un'intelligenza pratica e scaltra cerca di volgere ogni situazione a proprio vantaggio ma che allo stesso tempo è maldestra goffa e alla fine non riesce nei suoi intenti birichino è un'espressione che si usa spesso riferita ai bambini quando sono disobbedienti un po dispettosi vivaci un paese arroccato è un paese che si stende sulle pendici di un monte ringraziamo tutti per l'ascolto vi aspettiamo la prossima settimana e se avete curiosità su questa o altre puntate scrivete all'email podcast nocciola scuola leonardo punto com grazie a tutti